quando vanno a toccare? quando vanno a toccare? ehi, che dalle, Joe si, noi stiamo a toccare un minuto, un minuto, un minuto un minuto avviamoci il Dio buona sala buona sera buona giornata buona giornata bene E' anche il ritmo di tutta di una banda E' anche il ritmo di tutta di una banda E' anche il ritmo di tutta di una banda E' anche il ritmo di tutta di una banda E' anche il ritmo di tutta di una banda E' anche il ritmo di tutta di una banda E' anche il ritmo di tutta di una banda E' anche il ritmo di tutta di una banda Richard